Oggi sono qui a rappresentare il CNR a questo convegno, ho l'onore di rappresentare tanti ricercatori che sono attivi in tutto Italia, ma soprattutto qui in Campania e a Napoli in particolare. Noi qui a Napoli abbiamo 16 istituti che hanno la sede principale e tanti altri che hanno sedi secondarie, quindi è un ecosistema della ricerca molto importante che direi attraversa vari settori, non solo quello dell'ingegneria, della chimica, delle scienze dei materiali e del patrimonio culturale, ma soprattutto nel campo biomedicale, sia per quanto riguarda le nuove terapie, nuove anche ricerche più in campo biologico, anche per la traslazionalità. In effetti uno dei temi di cui possiamo parlare oggi è come il CNR, quindi la ricerca fondamentale nelle scienze della vita, può contribuire alla ricerca traslazionale, quindi allo sviluppo di nuove terapie, nuovi approcci non solo al Covid, ma in generale a tutte le malattie, anche quelle oncologiche, come possiamo insieme stabilire come anche concorrere al PNRR per sviluppare al meglio l'ecosistema della ricerca campano. Il PNRR è sicuramente una delle opportunità molto importanti che ha un obiettivo, quindi rilancio e resilienza. Rilancio e quindi può consentire anche di sviluppare per esempio infrastrutture della ricerca nel campo delle scienze della vita, perché ha una misura per questo e potrebbe essere interessante pensare a nuove infrastrutture di ricerca che sono fondamentali. Oggi, per esempio, nel campo delle scienze della vita, senza le strumentazioni adeguate, non si riesce ad essere competitivi, quindi questo territorio può sviluppare anche in senso propositivo come evolvere, quali sono le attrezzature, le infrastrutture e le organizzazioni di cui abbiamo bisogno per essere significativi nel campo delle scienze della vita. L'altro punto sono le competenze, un grande investimento in formazione, c'è bisogno sicuramente di più laureati nelle materie scientifiche e tecnologiche. L'ecosistema del CNR e degli istituti di ricerca può essere una grande palestra di formazione e quindi nel PNRR ci possono essere anche le strade per questo. Oltre a questo, ovviamente, ci sono i programmi europei ai quali anche questo ecosistema dovrà concorrere e ci sono anche i piani regionali, quindi la capacità nostra deve essere quella di mettersi insieme e pensare a tutte queste misure con un obiettivo globale complessivo, la crescita della ricerca in Campania. Quindi non bisogna fraintendere, l'obiettivo non è un programma o l'altro programma, ma è la crescita complessiva. I programmi, il PNRR, il Piano Nazionale della Ricerca, i piani europei servono ad arrivare a questo obiettivo con una visione globale in cui si integrano varie competenze.